Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie chiamata il mio cavallo è un diesel ovvero questa serie su R3 Revention 2 scusate i colpitos ci stiamo spostando, ci stiamo spostando con la carovana ci stiamo spostando, io già stavo andando con la cella pensavo di essere Gran Turismo, stavo andando con R2 cosa? se ah bene ok, allora raccogliamo la ruota dai eeeh, fai ruotare la ruota ok solleva la ruota e olè colpisce la ruota boom boom a posto oh 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 c'è gente che ci guarda però ah ok ok torniamo su torniamo su per tornare al carro eh, torniamo al carro ok continuiamo a continuare al carro ovviamente c'è c'è un tracciato ok va bene ok ok Cortese, tu dovrebbe amarti con cortesia, se dà ci dice di sì, vabbè, questo è anche vero, allora faccio sui discorsi, insomma, è facile, momento, molto tranquillo, troverà per dialoghi, meravigliosi, fai tu, non devi indicare, sai? L'imbroglione è fatto e finito, avvantatene pure, ok, andiamo avanti, no, no, calma, senza correre, senza correre, perché abbiamo visto che c'è la ruota fragile, quindi piuttosto che, piuttosto che corre rischiare di fare, Fare casini, meglio evitarli, i casini, ok, per favore, dall'alto, voglio vedere la strada, ma porca, mi dite, ah, ok Ah, bene, ah, bene, ottimo Ah, quindi Arthur Arthur e John Marston non vanno tanto d'accordo, ok Sei accaldato È stato evidenziato l'icona, un bel giro, hai troppo, come devo fare? Per evitare di fare indossa vestiti in un ambiente circostante Allora Eh, eh, come si, come si fa? Ma 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 La ruota, la ruota delle, ma niente, non riesco a, scusa Scusa Scusa, io ho premuto tutti i tassi, non mi fa la ruota del Lego Ora No, niente, non, niente, non posso Sono accaldato, lo so, perché ho messo le cose invernali, però non, niente, non, non so come si faccia a cambiare Ok 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 Eh Eh Eh, va, che capita, dai Ah, bene Ok Ora, finalmente posso cambiare i miei abiti, no E poi, mille foglie ginseng Wow, bello Ok Ok Ginseng, mille foglie, ok Grazie Eh, questa è la piante, puoi consumarle e riuscire i tuoi nucleoli Allora Non è gioco, è possibile È possibile Ah, beh, ok 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 Compendio ginseng americano Addirittura Ginseng americano Ok Quindi, praticamente, questo qua è l'erborista di fiducia della palla Ok Compendio aggiornato Compendio Compendio Compendialo Compendio Allora, io Ok Andiamo di qua Dobbiamo semplicemente raggiungere l'accampamento Mi sa, vabbè È lunga È lunga È lunga Però Ah Che comunque C'è comunque C'è Quanto Paisaggi Immaginario È È veramente bello Ora Io posso capire Capire Tranquillamente Quelli Che a cui non piacciono Non piacciono Queste Queste fasi Queste lunghe cavalcate E queste cose Perché dici, alla fine Sto stavo guidando Premi Ecco Ok 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 Per fermare R1 Ah Ok Ok Va bene Abbiamo Abbiamo raccolto Un altro Abbiamo Ne abbiamo raccolto Un altro Ok Allora Vieni qua Beh Prima eravamo in 3 a ballare la Ligalli Adesso siamo in 4 a ballare la Ligalli Oh Mi sa che siamo arrivati a campamento Oh Oh Siamo arrivati Siamo arrivati Adesso Diamo Diamo E Diamo Diamo Eh Ah Ah Oh Oh Cosa Dio Eh 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 Ah Eh E' bebi eh? Eh, ok Dio Mi sembra, abba Ah bello si Che chi è questo? Filini Stai giocando il filini Ah bene ok E diciamo Come on But we are safe now And we are far too poor So it is time for everyone to get to work Get to work but stay out of trouble Remember we are itinerant workers Laid off when they shut down our factory to the north Now get out there and see what you can find Uncle Reverend Swanson no more passengers It is time for everyone to earn their keep There is a town a little way down the track named Valentine Livestock town all mud and morons if I remember right That seems a decent place to start And we need food Real food That means every day One of you And remember Whatever it is that you find The camp Gets its Ok Now be sensible out there Bene Ok Ma chi è questo? Ma è Oretta Berti? C'è Oretta Berti nella banda Oretta Berti Mi sa che adesso nella tenda puoi dormire O cambiarti di abito O O Cambiarmi di abito soprattutto Che adesso che c'è caldo Allora Se sei così Io direi Secondo me O Capitolo 2 Orso Overlook O Inizia Il capitolo 2 O E adesso forse Forse adesso Siamo un po' il mondo Paio di settimane dopo Paio di settimane dopo Che succede? Palle È arrivato da una regione Ah ma a quanto pare Ah 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 Meglio così Meglio così Dai Poi Chi è Ose? Ah Ose Dimmi Mangia bevi Li potete mantenere i nuclei E i livelli accettati Vai Sono Bene Ah bene Ah bene Ottimo Ottimo Ah ok Bene Ottimo Ah Compendio La macchina fotografica Compendio Aggiornato Allora L'accampamento Ho contrasignato Che cosa Che cosa Che cosa Allora Non parla Non si può parlare Ok Allora Guardiamo un attimo la mappa Guardiamo un attimo la mappa Qua c'è il mondo Allora Allora Orso Overlook Allora La mia tenda Voglio la mia tenda Posso avere la mia tenda? Il mio posto? Ah no Mi sono già messo delle cose più estive Ah che bello Che bello Che bello Porta Allora Porta Parson Degli animali Per rifornire l'accampamento Parson può Usare La carne Per cucinare Ok Bene Porta Gli animali Va bene Allora Qua come sono Posso vedere Come sono combinato Però la barba No? Io non voglio più Più i capelli Della barba No la barba Mi piace Barba mi piace Bella lunga Ma piace Vabbè Ma sai qual è il discorso? A me piace Ma probabilmente Probabilmente Allora Impomatare i capelli Bellissimo Accorcia come? Allora Barba e baffi Togliere tutto Main Allora Main Allora Main E basette No Le basette Aspettare Le basette Come sarebbero Questa è la lunghezza Attuale Ah Vabbè Non Vabbè Baffi Com'è Ma non posso scegliere Niente Ah Ah Ok Va bene Va bene Baffi Qua non posso fare Allora Mento Vediamo com'è Ah Ok Ah Va bene Va bene Va bene Allora Baffi Ok Lunghezza Poi Questo Mento Allora Allora Io direi Direi Facciamo Facciamo e rasiamo Tutto Rasiamo tutto Facciamoci Facciamoci Giovanni e belli Facciamoci Giovanni e belli Rasiamo tutto E Indietro Dai Bello Lì Va come Va come Sono bello Come il sole Ora Qua c'è il coso Dove donare Buongiorno a te Qua c'è il coso Dove donare Contribuisci Vai quanto c'ho Ah Dai denaro Quanto posso donare Ah Ah Quanto To Voglio Un Un Uno Un dollaro Un dollaro Un dollaro Ah Ah Un Ok Poi Allora Posso parlare Con questo Crescione Miglioramenti Ah Qua Se ci sono animali Li riporto Ok Ora Allora Vediamo un po' La situazione No 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 Ok Allora Guardiamo La situazione Conviene Che facciamo Zio Non saprei E La Reverendo Swanson Chi è senza Ah Ti ha detto Non ho ritrovato Qualcosa Ok E quindi Questo è uno Qua chi c'è Qua c'è La città Valentine E adesso 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 Si fa interessante La cosa Io direi Direi Che Che andiamo lì Oh Direi andiamo lì Però Devo uscire L'accampamento Devo uscire L'accampamento Dai Oh Si Si salutano Tra di loro Sono contento Allora Io Allora Qua c'è una via C'è una cosa O c'è un cazzo Di nulla Ma Dove si è Come si è C'è questo Accampamento Dov'è l'uscita Ma perché L'uscita è ovunque Però Siamo Un attimo Allora Devo Andar via Di qua Devo Andar via Di qua Il mio cavallo Ah Eccolo Il mio cavallo Ole Allora Eeeh Carico Carico Allora Tennessee Walker Allora Non troppo Non Accareziamo Accarezziamo Ok Un po' di carezze Ci stanno Dai Però Adesso Devo salirci Devo salirci E andiamo Dal Referendo Andiamo Dal Referendo Io Seguo la strada Che mi dice Qua E andiamo Dal Referendo Però Dovremmo Sbrigarci Oh Adesso Oh Ora Ti comincia Ora Comincia Il divertimento Andiamo Di qua Tanto Andiamo Avere Stavici Gente Che Arriva Gente Che va Vai Oh Che cazzo Ma Porca Io non volevo Fare Questo Io non volevo Fare Sto Bordello Porca Miseria Però Mi ammazzino Il cavallo Ok Ok Non Non volevo Fare Sto Casino Però Va Bene Frugo Frugiamo Così Proprio Il tabacco Non va a masticare Ok Io mi sa Che dovrò mangiare Qualche cosa La fruga Perché sento Vibrare Sentio Vibrare Sento Vibrare Il pad Perché Ah Sono Deglio Driscoll Sono Deglio Driscoll A me Era Deglio Driscoll Porca Come Se Chiama Il cavallo Eh 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 Allora Io ho Una No Non volevo Uno è corso via Non so perché Ma va bene Comunque Non volevo Così Uno Driscoll Il tuo Driscoll Se va Allora Ricarica Poi però Scusa Rotare oggetti Oh Eccola Rotare oggetti Allora Oggetti Proviste Fagioni Fagioni Scatola Allora 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 Per usare Rilascio Per usare Ok Fagioni Scatola Mangiamo Recuperiamo Un po' Siamo arrivati Mi sa Siamo No Siamo Arrivati Posso riporre L'arma Ok Calma Con calma E tranquillità Ole Qua c'è la stazione ferroviaria Reverendo Swanson È verendo Signor Swanson Oh Se non si c'è Doi No 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 che pensi? no more shall I sink sir I'm free I'm free you don't seem free friend you seem just e si ehehehehe ehehehehe frien I just wanted to play now firstly we ain't friends don't make no mistake on that subject secondly he can hardly see let alone reason now reason it ain't never been one of my strong points neither but see and I do just fine you want to step outside or do a business here I just want them to finish the game why can't we all just get alone these are good men after their children of God children of God how's about you playing this place huh that seems fair sure you want a game vabbè sure I play a few hands well sit yourself down then and 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 we're so well we're so okay this is Marvin ma si vediamo vedo 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 i due dollari dai vediamo ha passato ha visto ok chiamo io c'ho allora le mie le tue carte con le due le tue carte c'è otto reggine 7 io c'ho coppia reggina e non è un cazzo allora è quella puntata al bus però possiamo dai è un po tutti hanno bussato non c'è cazzo niente nessuno allora bussato picchia tutti carte di merda c'hanno vuoi vedere che c'ho la mano migliore c'ho la mano migliore ok abbiamo capito su unica cosa c'è rischio e qualcuno alla bussa vediamo vediamo un po bussato anche lui bussato tutti doppia reggine 10 bene piatto mio di 12 a saperlo ma va bene probabilmente avrebbe stato uguale probabilmente come puntavo qualcosa andavano via tutti comunque oh e andiamo qua diciamo giusto queste qualche partita poker così poi magari la passiamo allora vediamo un po po di carte un po di poker vediamo un po adesso sono io le tue carte bene 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 non avevi mai pensato di chiudere una puntata giocando a poker vediamo le mie carte che mi sembrano belle un k10 a colore tra l'altro ok va bene vedo cazzo se vedo dicono punta 4 e cazzo vedo allora allora vediamo vediamo che carte ci sono qui ok vedi 8 centesimi ah perché si fa centesimi ma si dai vedo magari esce un k eh la minchia vabbè allora come è stato detto che è molto basilare cioè se c'hanno il punto vengono se no niente io lascio lascio ha vinto 30 centesimi e va bene non possiamo farci niente non avevo punto non avevo niente io al massimo potrò sperare una doppia coppia cioè si aveva il k kicker ma quello sicuramente aveva punto aveva qualcosa male che vado aveva lascio quindi ok c'è un'altra partita poi aspetta fammi vedere le carte l2 ok e io direi che lascio direi che se carte fanno schifo quello da presto 10 centesimi wow piatto ricominci fico come si vuol dire no io direi io voglio fare l'ultima mano giocata poi usciamo eh allora l'ultima proprio giusto l'ultima giusto l'ultima giusto l'ultima allora diamo un po cosa ci danno diamo un po cosa ci da eh che cazzo però fammi vedere le carte ah le 8 e 3 lascia l'ultima mano voglio giocare a 10 cente 9 e 3 non ha colore che c'è voglio lasciar ah se la stanno giocando eh la peppa con 9 e 3 dove dovevo andare va bene si posso saltare per favore grazie ok bene sono contento sono contento quindi vincono 30 centesimi questo è tutto contento ora va bene me la diamo una una mano bella una mano di petalda ok le mie carte 10 e 8 non ha colore vabbè dai se no non riusciamo più dai ok l'ultimo l'ultimo l'ultima dopo di che minchia mamma che brutta è bossa 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 se qualcuno punta io vado via era peppa ok boh lascia e direi usciamo e sit down vabbè reverendo 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 swanson where'd you go l'2 ah bene sembra quella da quel lato vabbè allo ma cavallo come si chiama come si chiama il cavallo come si chiama il cavallo no scusate scusate un attimo allora no ok io mi devo anche ostendere i comandi le cose perché non riesco a capire come si chiama il cavallo comunque direi che possiamo chiudere questa puntata qua fra un imprevisto affrontato in una certa maniera superato in qualche maniera così devo devo far praticare i comandi vi chiedo scusa fra un imprevisto una bevare comunque siamo andati adesso diciamo che il gioco si sta aprendo si è aperto l'open world si sta cominciando ad aprire e stiamo cominciando a vedere quello che l'inizio di quello che questo questo gran bel gioco e ci divertiremo tale io ripeto ci divertiremo parecchio sono sempre convinto di questo detto questo signori direi possiamo salutarci qui che la puntata è andata anche abbastanza lunga e quindi semplicemente un saluto a tutti quanti voi e alla prossima